L'idolatria. Nella società odierna parlando di idoli o di idolatria si è portati subito a pensare a quelle statuette d'oro, d'argento, di legno o di altro materiale che gli antichi popoli della terra si fabbricavano per rendere il loro culto, adorandole e attribuendo ad esse doti divine e molto spesso identificandole con le presunte loro divinità. Leggendo i libri dei profeti Isaia e Geremia possiamo trovare la descrizione della loro fabbricazione, statuette che raggiungevano dimensioni umane rappresentanti dei domestici, i cosiddetti terafin. Altre statue raggiungevano dimensioni colossali come quella eretta nella pianura di Dura dal re Nabucodonosor. Si può pensare a questi riti misticheggianti che i popoli primitivi compivano in onore di divinità sconosciute, effettuando sacrifici umani per ottenere la protezione degli dèi, la fecondità della terra, la vittoria, le battaglie, le guerre, eccetera eccetera. Volendo adeguarci ai giorni nostri, ai nostri tempi, se effettuassimo un sondaggio d'opinione tra la gente comune chiedendo cosa sia l'idolatria e se tutt'oggi esiste la maggioranza di esse risponderebbe esprimendo i concetti sopracitati ed affermerebbero che l'idolatria oggi esiste soltanto tra i popoli meno civilizzati. Se l'uomo d'oggi fosse accusato di essere un'idolatra certamente resterebbe turbato, scandalizzato, se non addirittura offeso da tale affermazione. Quindi la civilizzazione dell'uomo avrebbe sconfitto l'idolatria a noi tanto lontana? Invece non è così. Tutt'oggi l'idolatria è presente anche tra le persone cosiddette civilizzate. Il vero senso dell'idolatria può essere sintetizzato in questa affermazione. L'idolo può essere una persona o una cosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio. Anche le cose che a noi possono sembrare banali se occupano nel nostro cuore lo spazio che spetta a Dio sono idoli. Inoltre l'amore del danaro, la concupiscenza, l'avarizia, la ghiottoneria sono tutte forme di idolatria. Lo sport, il potere, il sesso, l'io dell'uomo, anche l'amore per una persona possono diventare idoli. Se si mette al posto del creatore, la creatura si entra nell'idolatria. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 3 verso 5, è scritto «Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala con cupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria». E anche nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 5 verso 5. «Poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro che è un'idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio». Pensiamo per esempio alle grandi manifestazioni sportive e alla grande attenzione che suscitano. Durante i periodi mondiali di calcio, dove viene celebrato una divinità del pallone. I giornali e la televisione, i mass media e in genere concentrano l'attenzione dell'intero globo, facendo passare in secondo piano notizie magari ben più importanti. Non c'è nulla di male nello sport o in altre cose, come anche la musica, quando queste non invadono la vita dell'uomo a tal punto di diventare la cosa più importante della vita stessa, prendendo il posto che spetta a Dio soltanto. Questo esempio vale naturalmente anche per la musica, abbiamo detto, la televisione, il danaro, il cibo e ogni altra cosa. Queste cose non contengono un male in sé, ma il valore che gli si dà a volte l'uomo stesso che le rende idoli. Anche l'amore per la propria fidanzata o moglie se ha la priorità nella propria vita, al punto di causare una trascuratezza verso Dio, nel servirlo, adorarlo e amarlo, diventa idolatria. Vedi le parole di Gesù in Matteo 10,37. Quindi stiamo attenti a non cadere nell'idolatria, non pensando che essa sia necessariamente il genuflettersi davanti a una statua o rivolgersi a partiche occulte o esoteriche, ma dando il giusto valore ad ogni cosa e soprattutto mettendo al primo posto nelle priorità del nostro cuore e della nostra vita di tutti i giorni, il Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Grazie. Grazie.